I motivi di chi è salito in montagna, dei partigiani, discutendo con un amico. Per rispondere alla propria coscienza, per istinto, per sottrarsi alle razzie di uomini dei tedeschi, per senso di precarietà, per paura, per amore della libertà, per amore di un'idea, di un ideale, per amor di patria, per non morire, per morire se è necessario, per una causa giusta, per non pensare che tutto sia perduto, per fare in modo che non tutto sia perduto, per non perdere tutto, perché è una scelta e questo è il momento di scegliere, per lottare, per uscire migliori dalla guerra, per essere migliori comunque, per calcolo, per salvare qualcuno, per salvarsi, per varcare un confine dentro se stessi anche, per ribellarsi, per sprezzo del pericolo, per mettersi alla prova, per cambiare la propria vita, per immaginare il futuro, per prepotenza, per pietà, per trovare una strada, per avere il diritto di parlare, di parlare oggi e domani, per agire, per poter dire di avere agito, per non restare inquinati dal fascismo, per riscattarsi dalla tirannide, dalla violenza di quella tirannide, per dovere morale, per speranza, per fedeltà politica, per fedeltà a se stessi, a un paese, perché sia ancora in tempo, per chi non ha ceduto e non cede, per chi resiste, per resistere.